Adesso guardate queste immagini, sono state girate intorno alle 19 di questa sera lungo la strada che porta a San Costanzo. Un'auto, una Opel Astra Station è uscita di strada e dopo aver capottato più volte ha terminato la sua corsa in fondo ad una scarpata. Ferito il conducente, un uomo sulla quarantina che abita nel comune di Mondolfo e che è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dove è stato sottoposto agli accertamenti del caso e all'alcol test. Sul posto anche i vigili del fuoco di Fano e Pesaro e i carabinieri di San Costanzo. Rallentamenti e disagi su tutta l'arteria stradale, l'incidente come dicevamo è avvenuto sulla provinciale subito dopo il tiro a volo di Monte Schianto.